Pulsione palla al piede, ha aspettato il tempo giusto di inserimento di Cassetti e Cassetti mette una palla intelligente sul secondo palo, la chiusa molto bene, Simplisio ancora una volta ad una ricopertura di Maicon non perfetta. Sempre più decisivo Simplisio anche come marcatore nella Roma. È arrivato a 4 gol in questa stagione. Grazie a tutti.